Il mio lavoro è quello di analizzare le tendenze del turismo come fenomeno sociale per capire gli aspetti qualitativi e quantitativi, come variano i flussi turistici sulla base delle aspettative, delle esigenze del turista e integrare queste dinamiche con le caratteristiche invece della comunità ospitante, cioè capire come le risorse, le attrattive turistiche di una destinazione possono essere valorizzate in funzione appunto del turismo attuale. Ma scusami, tu quindi sei collegata con qualche associazione, con qualche istituzione? Io collaboro con i comuni come libera professionista, il mio sogno sarebbe quello di riuscire a portare avanti in maniera più strutturata e più sistematica un progetto proprio di marketing territoriale, di coordinamento sovraterritoriale, cosa che è ancora un po' difficile da attuare oggi, in vista proprio dell'individuazione di prodotti turistici caratterizzanti. Pensiamo per esempio al tema della Grande Guerra, che adesso è di estrema attualità ovviamente in vista del centenario, tutto il territorio, sì. O ancora anche i prodotti d'eco a denominazione comunale, che sono uno dei pilastri della provincia di Vicenza e che quindi potrebbe essere ampiamente valorizzato attraverso un discorso di tipo sovracomunale. Il lavoro soprattutto con i comuni, con le comunità montane della Valle dell'Agno. Abbiamo avviato qualche progetto anche con la Valle Eugra e con Altoastico Posina. Adesso vediamo se riusciamo ad avere dei finanziamenti per portare poi a termine un piano di marketing territoriale, di promozione, che era basato proprio sull'individuazione di questi temi forti, promossi attraverso le nuove tecnologie, quindi applicazioni, social network, portale, eccetera. Quindi un occhio di riguardo verso quelle che sono le nuove tecnologie applicate al turismo, che sempre più hanno un ruolo importante sia nella fase di scelta della destinazione che poi proprio della gestione della vacanza stessa. Quindi ecco, l'invito è quello di promuovere, di puntare molto su questi strumenti, perché oltre ad essere relativamente economici, sono estremamente efficaci per promuovere il territorio. Ma questa tua attività è una cosa nuova o è sempre esistita? Molto nuova. Vero? Perché a me sembra che è talmente logico che ci sia, che mi pare impossibile che sia solo da adesso riconosciuta. Penso che ancora adesso molti non la riconoscono, nel senso che ho qualche difficoltà anche a far capire in cosa consiste il mio lavoro e qual è l'obiettivo. E quindi cerco sempre di essere molto concreta e dire l'obiettivo è quello di organizzare l'offerta in modo da non fare semplice promozione attraverso una guida, attraverso un dépliant, ma strutturare invece il territorio coinvolgendo privati oltre che settore pubblico in modo da rendere realmente fruibile il territorio stesso. Per fare un esempio, di solito cito il discorso delle chiesette o delle ville. Molto spesso non sono visitabili. Arriva il turista, magari straniero, non sa a chi rivolgersi, non sa quando le può visitare, magari ha bisogno di un interprete, non sa a chi si deve rivolgere. Oppure sa che ci sono e trova chiuso perché il custode sta mangiando. Esatto, assolutamente, capita anche questo. O deve fare la penichella. Certo. Del giorno. Ce l'ha morto? Ah sì, ecco l'idea è appunto quella di rendere realmente visitabili queste strutture, attuare una promozione che sia coordinata, quindi che sia studiata in maniera approfondita con il coinvolgimento, come dicevi giustamente tu, anche della popolazione locale, di quelle persone che sono appassionate, che amano il territorio e che quindi possono anche rendere un servizio importante in questo senso, un po' il ruolo delle proloco, che molto spesso sono quelle che consentono di visitare certi elementi, certe risorse turistiche che altrimenti non sarebbero chiuse. Quindi l'importante è dare anche un ruolo all'interno di un progetto strutturato alla popolazione.